ehi ascolta bene hai mangiato poco salutare così si dice in giro davvero l'ho sentito da un venditore di cibo spazzatura sei dipendente da certi cibi so che sembra strano ma è possibile ci sono tre fasi nella dipendenza desiderio perdita di controllo su ciò che si desidera e uso continuato nonostante le conseguenze questo vale anche per quello che mangiamo sembra tremendo vero beh alcuni cibi creano più dipendenza di altri parliamone anche di come influenzano la tua salute quali cibi sono pessimi per te qualcuno di essi è sano parliamo di tutto questo è di molto altro 1 pancetta pancetta lo so sto rovinando alcune delle tue ricette preferite ma ne vale la pena a lungo termine fidati gli studi dimostrano che la pancetta si trova nella fascia media degli alimenti con problematiche di dipendenza è il perfetto miscuglio di tutto ciò che è dolce e salato per non parlare del fatto che il suo aroma è assolutamente ipnotizzante ricordi quando in precedenza abbiamo parlato di sale che innesca la dopamina anche due soli pezzi di pancetta a fette spesse equivalgono a circa il 10 per cento del valore giornaliero di sodio se ne mangi sei pezzi il sabato potresti già aver assunto il 30 per cento del valore giornaliero di sodio prima del pomeriggio questa quantità di sale ti farà sentire gratificato o gratificata e te ne farà desiderare di più 2 cioccolato per ridurre il consumo di golose barrette è meglio il cioccolato scuro il cioccolato al latte contiene molti grassi quindi cerca di mangiare cioccolato fondente può avere un sapore amaro all'inizio ma dopo un po man mano che abitui il tuo gusto non sarà più così e il cioccolato al latte ti sembrerà che abbia un sapore troppo dolce 3 patatine fritte nessuna sorpresa le patatine insieme ad altri snack croccanti come i cracker al formaggio per i genitori rientrano tra i cibi molto elaborati sono anche salati e pieni d'aria quindi non solo ti danno quella piacevole scarica ma non ti riempiono mai davvero ecco perché continui a mangiarli cercane una varietà a basso contenuto di sale può aiutarti a ridurne il consumo 4 il gelato le piccole porzioni qui sono la chiave compra porzioni singole piuttosto che confezioni famiglia o confezioni maxi suggerisco di non comprarlo nemmeno e di andare a prenderlo in gelateria se proprio devi gustarlo in questo modo se ne hai voglia bisogna vestirsi salire in macchina e guidare anziché andare semplicemente in cucina e aprire il congelatore meglio ancora fai una scelta sana per il gelato in vaschetta prendi quello al cioccolato e banana che è fatto senza latticini in quanto la cremosità è data dalle banane congelate frullate 5 torta non puoi mangiare una fetta di torta senza dover combattere la voglia di mangiarne ancora per questo è una questione di limitare la tua tentazione e imparare a dire di no non sei un guastafeste solo perché non vuoi la torta di compleanno di un collega semplicemente non hai fame di torta 6 cheeseburger alcuni ristoranti ma soprattutto fast food locali ne vendono a file intere rendendo questo cibo già malsano e pieno di grassi saturi anche un cibo che crea dipendenza non stiamo parlando di un hamburger di una steakhouse o di un bel ristorante non se ne mangiano molti di quelli in una sola volta fare da soli l'hamburger è la cosa migliore se puoi sbarazzarti del pane e mangiarlo da solo allora è la scelta migliore l'idea è quella di eliminare il maggior numero possibile di parti molto lavorate dal pasto mangiare troppi hamburger non solo allargherà il tuo girovita una dieta ricca di carne rossa e anche collegata a un aumento del rischio di cancro del colon e del retto a insufficienza renale di verticolite diabete di tipo 2 e altre malattie prova invece una ricetta per un hamburger di tacchino cotto al barbecue 7 cereali per la colazione il principale colpevole qui è lo zucchero soprattutto se è combinato con i fiocchi o sfoglie di cereali a basso contenuto di fibre fai attenzione alle etichette l'environmental working group che ha recentemente classificato 1556 cereali in base al loro contenuto di zucchero raccomanda di cercare una marca con non più di 4 grammi di zucchero per porzione ad esempio dal 2018 negli stati uniti la nuova etichetta nutrition tax elenca la quantità di zucchero aggiunto insieme alla percentuale rispetto al suo valore giornaliero raccomandato questo renderà più facile eliminare i colpevoli della dipendenza 8 pollo fritto non è il pollo che non puoi smettere di mangiare è l'impanatura croccante grassa salata e fritta che lo racchiude cerca di mangiarlo al forno oppure togli la parte fritta almeno dopo il primo pezzo permettere a tacere la voglia di continuare a mangiare 9 biscotti ci sono anche i biscotti nella lista delle cose da evitare è difficile infatti trovarne uno che non sia solo un disco rotto di ingredienti che creano dipendenza la migliore scommessa e cucinarli da sé perché puoi controllare gli ingredienti e ridurre lo zucchero i biscotti d'avena con pezzetti di cioccolato e noci sono una scelta più sana rispetto a quelli comprati in negozio 10 pizza più la pizza è elaborata peggio è cerca di mangiare la pizza con ingredienti freschi e interi e vacci piano con il formaggio perché è altamente trasformato cerca di usare una crosta meno lavorata se possibile se la fai in casa puoi giocare con ricette più salutari come l'uso di croste di cavolfiore questa ricetta della pizza in crosta di cavolfiore ha così tanto sapore che non ti deluderà di sicuro